Un uomo di 37 anni di Canicattì questa notte è finito all'ospedale Barone Lombardo per una ferita d'arma da fuoco. È stato raggiunto da un colpo di fuggile alla schiena. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, i medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale civico di Palermo. Il canicattinese si trova adesso in gravi condizioni, in terapia intensiva ed è in prognosi riservata sulla vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno subito comunicato il fatto alla procura di Agrigento. Si attendono ulteriori sviluppi sul caso, non ancora chiaro. Non si conosce infatti il luogo dove il 37enne è stato ferito e al momento neanche il motivo. A quanto pare sia lo stesso 37enne, così come anche alcune persone sentite durante la notte dei carabinieri, non sarebbero stati affatto collaborativi.